E' bello essere qua e qua tutti insieme, perché c'era prima e perché c'è per la prima volta e anche per noi, per i meridigiani, che siamo ormai degli abitui. Facciamo dei pezzi miei che sono però pezzi nostri anche perché comunque fanno un po' parte della nostra storia musicale e cominciamo con questo che si intitola Rui Saint Denis, veramente ispirato a un'atmosfera francesinale. Rui Saint Denis 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 Rui Saint Denis